Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Dove siamo? Siamo in un video per regolamentare finalmente Come dovete voi pormi le sfide su Isaac Perché sì, devo dire la verità Non riesco più a gestirle E quindi ho bisogno di fare un video per regolamentarle Prima di tutto Io prenderò le sfide non solo da questo video Ma tutte le sfide che mi date Ok? Però pongo questa regola Le sfide che mi vengono messe in questo video Avranno la precedenza Ok? Chi metterà la propria sfida Chi la scriverà qua sotto Avrà la precedenza su tutti gli altri E per essere precisi Poi adesso vi dirò come avere la precedenza Nel frattempo ho aperto un nuovo video Molto semplice, non è importante Perché vi farò vedere cosa dovete scrivere esattamente In un video Per avere la precedenza sulle sfide di per sé Ok? Bene, questo è un mio video a caso Volete voi mandarmi una sfida Dovete fare così Per prima di tutto ci sono le sfide normali Quelle che hanno meno precedenza di tutte Me le scrivete sotto un video e basta Ok? Da oggi ci saranno questi tipi di sfide E io le farò per ultime Prima farò Quelle che hanno questo hashtag Sfida alle ore è tutto attaccato Vabbè, non è importante Deve avere questo hashtag Che lo potete vedere tranquillamente qua Prenderò prima in considerazione sotto qualsiasi video queste sfide E poi prendere in considerazione le sfide con questo hashtag Qua hashtag Non so mai come si pronuncia Con questo hashtag Sotto il video in questione Cioè sotto questo video Ok? Questa è la priorità Prima le sfide di questo video con questo hashtag Poi le sfide con questo hashtag Poi le sfide senza nulla In qualsiasi video Ok? Ci tengo a dirlo Perché veramente sto avendo una grande fatica A trovare le sfide che mi mandate E a, diciamo, a farle Quindi, bene Se volete che io le faccia Fate così Se no potrebbero arrivare in ritardo Per la cronaca Se avete già scritto la sfida sotto un altro video Vi dico chiaramente Di riscriverla sotto questo video Perché? Perché da ora in poi Prenderò le sfide partendo da questo video Ok? Perfetto Quindi Spero che vi sia stato utile sapere ciò Qua da Alione è tutto Ciao a tutti ragazzi A un prossimo video Ciao